Applausi 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 in sé, al mattino il lavoro che ci aspetto, con la sera riporti come Dio, con te che mi s'accendono le noci e le noziche, e dove che si approcciano domeniche che io so te. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie mille